In nomine Patris et Filii e Spiritus Santi. Amen. Selodato Gesù Cristo, Maria Sede Sapientiae, Ora Pronobis. Carissimi fedeli ben ritrovati per La vita di San Benedetto, scritta da San Gregorio Magno. Episodio tredicesimo Potere e preghiera Pietro Vorrei sapere se il Santo otteneva da Dio il potere di operare così grandi prodigi, sempre mediante la preghiera, oppure se talvolta li compiva anche con il solo cenno della propria volontà. Gregorio Coloro che sono uniti a Dio con tutta la loro anima, quando la necessità lo richiede, possono operare miracoli nell'uno o nell'altro modo, talvolta con la preghiera, altre volte con il loro stesso potere. E poiché Giovanni afferma, a quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figli di Dio, perché meravigliarsi, se coloro che hanno ricevuto il potere di diventare figli di Dio, operano miracoli in forza di questo stesso potere, che poi si è dato loro di operare miracoli in entrambi i modi, ce lo attesta lo stesso apostolo Pietro, che risuscitò Tabità con la preghiera, e consegnò alla morte Anania e Saffira, semplicemente rimproverandoli perché avevano mentito. La scrittura non dice infatti che egli pregò perché morissero, ma soltanto che li rimproverò per la loro colpa commessa. Ne possiamo dedurre che i santi talvolta operano miracoli in virtù del loro potere, altre volte rivolgendosi a Dio nella preghiera. Pietro infatti tolse agli uni la vita rimproverandoli, all'altra invece la restituì pregando. Voglio anzi narrare ancora due episodi della vita del servo di Dio benedetto, dai quali risulta evidente come in uno egli abbia operato miracoli in forza del potere ricevuto da Dio, e nell'altro grazie alla preghiera. Ai tempi di Toti, la re dei Goti, uno di questi, di nome Zalla, seguace dell'eresia ariana, era acceso di furore e crudeltà disumana contro tutte le persone consacrate della Chiesa Cattolica. Se un sacerdote o un monaco gli capitava davanti, non poteva assolutamente uscire vivo dalle sue mani. Un giorno, bruciato dalla passione dell'avarizia e bramoso di rapina, sottopose a crudeli tormenti un contadino, torturandolo in diversi modi. Questi, vinto dal dolore, dichiarò di aver affidato tutti i suoi beni al servo di Dio benedetto. Così facendo, egli pensava che almeno per quel poco di tempo che il suo tiranno prestava fede alla cosa, avrebbe smesso di usargli violenza, e ciò significava guadagnare qualche ora di vita. Zalla smise infatti di torturare il contadino, ma dopo avergli legato strettamente le braccia con cinghie, cominciò a spingerlo davanti al suo cavallo perché gli indicasse chi era benedetto, l'uomo a cui aveva consegnato tutti i suoi averi. Il contadino, camminando davanti con le braccia legate, lo condusse al monastero e trovò il santo proprio seduto davanti alla porta, intento alla lettura. Rivolgendosi allora a Zalla, che lo seguiva sempre seviziandolo, disse «Ecco il padre benedetto di cui ti ho parlato». Zalla, sprizzando collera e fissando benedetto nella folle eccitazione del suo animo pervertito, convinto di incutergli spavento, usando con lui i modi brutali che gli riuscivano efficaci con gli altri, gli gridò a gran voce «Alzati, alzati» e restituisci questo contadino quanto da lui hai ricevuto. A queste grida subito l'uomo di Dio alzò gli occhi dal libro, fissò Zalla, quindi posò il suo sguardo sul contadino sempre legato. E mentre guardava le sue braccia, ecco, le cinghie cominciarono a sciogliersi prodigiosamente, con tale rapidità che nessuno, per quanto svelto, avrebbe potuto farlo così prontamente. Il contadino che era giunto legato ora stava là, terrorizzato, di fronte a così straordinaria potenza. Allora Zalla si precipitò giù dal cavallo, e piegando ai piedi del santo il collo indurito dalla sua spietata crudeltà, si raccomandò alla preghiera del santo. Questi, senza interrompere la lettura, chiamò i fratelli e ordinò loro di farlo entrare, e di offrirgli un po' di cibo benedetto. Quando Zalla gli fu ricondotto davanti, egli lo ammonì perché desistesse finalmente dalla sua folle crudeltà. Ammansito, Zalla si allontanò, e non ebbe più l'ardire di chiedere qualcosa a quel contadino, che l'uomo di Dio aveva sciolto con un semplice sguardo, senza neppure toccarlo. Questo dimostra, Pietro, ciò che prima dicevo, coloro che servono con fedeltà e costanza a Dio onnipotente, a volte possono operare miracoli anche solo con il potere loro conferito. Colui, infatti, che senza neppure alzarsi, domò la violenza del terribile goto, e sciolse semplicemente con lo sguardo le cinghie annodate che stringevano le braccia di un innocente, proprio per l'immediatezza con cui operò il miracolo, dimostra di avere potuto fare quel che fece, grazie a un potere ricevuto. Ora, però, voglio anche raccontare quale grande miracolo poteva ottenere da Dio grazie alla preghiera. Un giorno egli si recò a lavorare nei campi con i fratelli. Un contadino, portando sulle braccia il corpo esanime del proprio figlio, sconvolto dal dolore per tale perdita, venne al monastero. Egli chiese del padre Benedetto. Gli risposero che il padre si trovava a lavorare nei campi con i fratelli. Allora, senza indugio, depose il cadavere del figlio davanti alla porta del monastero e, quasi impazzito per l'afflizione, si mise affannosamente alla ricerca del venerabile padre. Proprio in quel momento, l'uomo di Dio stava ormai ritornando con i fratelli dal lavoro dei campi. Appena lo scorse, il contadino, privato della sua creatura, incominciò a gridare, Restituiscimi mio figlio, restituiscimi mio figlio. A queste parole l'uomo di Dio si fermò e disse, Che ho forse sottratto io il tuo figlio? E quello rispose, E' morto, vieni a risuscitarlo. All'udire ciò il servo di Dio rimase molto rattristato e disse, Via, fratelli, ritiratevi. Compiere questi miracoli spetta ai santi apostoli, non a noi. Perché volete imporci pesi che non siamo in grado di portare? Ma il contadino, spinto all'eccesso dall'angoscia, continuava a implorarlo, protestando che non si sarebbe allontanato da lui fino a quando non gli avesse restituito vivo il suo figlio. Allora il servo di Dio chiese, Dov'è? E l'uomo rispose, Ecco, il suo corpo giace sulla soglia del monastero. Quando l'uomo di Dio vi giunse insieme con i fratelli, si inginocchiò, quindi si distese sopra il corpicino del ragazzo, e alzate le mani al cielo, pregò dicendo, Signore, non guardare i miei peccati, ma alla fede di quest'uomo che implora la risurrezione del figlio, e restituisci a questo corpo l'anima che hai tolto. Aveva appena finito di pregare che l'anima, ritornando nel corpicino del ragazzo, incominciò a farlo tutto sussultare sotto gli occhi dei presenti. Era evidente che esso palpitava in quel modo per una scossa straordinaria. Benedetto lo prese subito per mano e lo restituì vivo e in buona salute a suo padre. Come vedi, Pietro, non era il suo potere fare questo miracolo. Infatti io gli ottenne di poterlo compiere prostrandosi in preghiera. Pietro, è del tutto chiaro che le cose stanno così, poiché tu dimostri con i fatti ciò che hai affermato. Ma ora vorrei pregarti di spiegarmi se i santi possono compiere tutto ciò che vogliono e se ottengono con la preghiera tutto quello che desiderano ottenere. Sia lodato a Gesù Cristo in nomine Patris e Fili e Spiritus Sancti. Amen.